Partendo da maggio 2020 abbiamo deciso come Terna di imprimere un'accelerazione al nostro piano di investimenti che di fatto è aumentato di più del 20% nei cinque anni. È il sesto trimestre consecutivo in cui raggiungiamo e superiamo gli obiettivi non solo di carattere economico-finanziario ma anche nello sviluppo degli investimenti, che vede noi come elemento centrale della regia di transizione energetica del nostro Paese, nella consapevolezza che la decarbonizzazione del Paese è un target davvero fondamentale.